Presidente, Sardi e Sicuri, lo screening di massa realizzato dalla Giunta regionale prosegue con grande partecipazione della popolazione nel prossimo fine settimana all'appuntamento nel Medio Campidano. Voglio ringraziare i Sardi per il senso di collaborazione e responsabilità e tutti i comuni per il supporto logistico che stanno dando a questa grande iniziativa di civiltà e di solidarietà. Lo screening di massa consente, come stiamo vedendo già dai primi numeri, di abbassare la curva del contagio e insieme all'azione combinata dei vaccini ci restituirà una Sardegna nuovamente covid-free. Ipotesi di una Sardegna zona bianca, una possibilità che ci riguarda e che ci interessa molto? Stiamo tutti lavorando alla cremente e chiediamo il contributo di responsabilità da parte di ciascuno perché questo risultato sia non solo raggiungibile ma venga mantenuto anche nei prossimi mesi per garantire al sistema economico produttivo certezze e possibilità di recupero rispetto ai danni causati dalle altre chiusure. Presidente, la stagione dei movimenti turistici si avvicina rapidamente. Da parte sua la riproposizione, il fermo convincimento della validità di un'idea di protezione della Sardegna lanciata un anno fa, osteggiata dal governo ma poi riproposta in campo internazionale in diverse realtà? A distanza di un anno i fatti si sono incaricati di darci ragione. Quella che è stata tacciata per essere un'idea bislacca del Presidente della Regione Sardegna è diventata una linea di tendenza internazionale. Numerosi stati, dalla Nuova Zelanda alla Grecia fino alle Canarie, hanno applicato l'idea del passaporto sanitario. Questa volta, dopo alcuni mesi dall'ultima ondata, la Sardegna sta spegnendo nuovamente i focolai della pandemia. Abbiamo bisogno di controllare gli accessi per evitare che ci sia una nuova ondata. Spero che il nuovo governo in questa occasione sia al fianco della Sardegna e dei Sardi per garantirci salute e benessere.